Sono lì, sono incarrute decine di persone, non so, non so, non so, non so, non so, ne facciamo un'altra, 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 quello che ti voglio dire, non aspettarti da me che posso fare di più di questo, se io fossi ministro di infrastruttura e stai spostando, per un'altra, perché? Perché posso decidere, posso proporre, io ti prometto, e l'ho già fatto, non vediamo neanche prometto, in Giappone, lo posso rifare, di portare in Parlamento le nozioni, le interrogazioni, gli emendamenti e i disegni diretti, affinché una realtà come quella del parco AUNUS, che è una realtà a rilevanza pubblica, non è che non lo so, mantenga il proprio know-how all'interno del sistema italiano, non ricordo anche un'emergenza, questo è il concetto. no, però se permette, questo lo so a memoria, lo sto facendo tutti i giorni, siamo a farlo, ragazzi! la torta la abbiamo dopo che ci sarà sorpresa mi raccomando le bottine così